Il treno Crescia Bianca 88-66 in treno d'Italia, proveniente da Roma-Telmico, verso la reddita la via centrale, delle ore 19.29 e il marco di ritardo agghiato 2. Attenzione, allontanati dalla via giacca, ferma a Gioia d'Avro, attenzione. Allontanati dalla via giacca, ferma a Gioia d'Avro, attenzione, allontanati dalla via giacca, ferma a Gioia d'Avro, attenzione.